Non lo so, perché se fosse così grave… La Juve che deve perdere eppure retroceda… Ebbè sì, ebbè no… Basta, questa è dietro un schia da bar… Ma no, ma è un paio di complotto… Io voglio andare di rigore dalla destra… Certo, stai proprio rinfocolando quella che è la polemica di prima inutile… Beh, scusami, scusami, io non so, tu voglio dire… Tu, intanto, mi dà del lei… Io non so, lei, il mio ruolo lo scopoci benissimo, se non vuol dire che non sei un giornalista… Non lo conosco, non lo conosco… Non conoscendo il suo ruolo… Tu vivi all'estero, in Australia? Sicuramente… Maria Cacciolangolo… Palla dentro, un secondo farlo… Hai chiesto un parere? Bla 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 bla… Sì, sì… Cioè, è veramente un ruolo comico, praticamente… Sì, io faccio il comico… Mi faccio quello… Tu hai detto, fai ridere senza essere un comico… Visto che parli di parla… Dai, dai… Che parli di parla… Dai, dai… Certo… Quelli che si siete… È dall'inizio che comincio a provocare… La smetti? No, io non provo… La smetti? La differenza tua… Io sono… Bla bla bla… Bla bla bla… Tu non hai capito cosa fai… Capra… Tu non hai capito cosa fai… Capra, capra… Hai capito? Hai capito, hai capito? Capra… Hai capito? È un artista… Hai già il tifoso del ruolo che io faccio io… O che io faccio è il mio… Paolo… Ognuno ha diritto a manifestare le proprie… Tu mi hai fatto una spanda… Io mi sono espresso… Sei capito… Tu hai risposto dicendo che, di fronte a un arbitro e un Var, anche il tuo occhio inizia… Non è affidabile… Non posso dare un giudizio… Certo… Hai tirato fuori ancora il tifoso del complotto… Certo… Hai capito… Chi ha parlato di complotto? Ma chi ha parlato di complotto? Hai continuato dall'inizio a parlare di complotti. Allora si vede che in questi giorni non hai letto cose dei tifosi, degli opinionisti. Ancora? Continua a offendermi? Non ho letto. Ma chi sei per dire a me che non ho letto? Allora hai letto male. Ma chi sei? Ma come ti chiami? Da dove vieni? Ti faccio vedere un lungo elenco. Ti faccio vedere io. Lui che le ha scritte. Ti faccio vedere? Non voglio vedere. Fammi vedere. Dai, dai. Ritorniamo a cronaca. Francesco Gianbruzzo. Fammi vedere. Aspetta lui. Non mi capisco. Allora ragazzi. Smetto perché tu sei intervenuto. Ancora? Continua. Assolutamente. Aspettiamo. Assolutamente. Aspettiamo. Ascolta. Ancora? Alla prossima domanda della conduttrice. Io penso, siccome sono qui e sto lavorando, se mi fanno domanda devo rispondere. Se non ti piace la mia risposta, non è un problema tuo. Io, cioè, non è che posso rispondere a quello che ti ti ha detto. Consigui. Hai capito? Dai, dai, dai. Mi posso rispondere a quello che mi piace a te. Hai capito? Bla, bla, bla. Hai capito? Dai, ti ascolto. Quando faremo una trasmissione sui comici, io mi atterrò a quello che dici tu. Ritorniamo alla partita. Vai Francesco. Eh, c'è l'Atalanta adesso.